Ben trovati da Siracusa, l'ippodromo del Mediterraneo che affronta l'ultimo convegno di Trotto. In programma sabato 17, una riunione in pomeridiana con sei corse che avranno inizio alle ore 16.15. La prima è il Premio Italia, a 1600 metri per una condizionata per indigeni di 4 anni, dove Tinturi al numero 1 dello schieramento ha già vinto e potrebbe essere il punto di riferimento. Ancora Tutto Matos, che cambia driver, chissà se li farà bene, e Talish a Griff, numero 4 dello schieramento, che viene da Palermo con buoni propositi. La seconda corsa è il Premio Portogallo, una corsa particolarmente equilibrata, dove forse il dito è possibile puntarlo sul numero 5 dello schieramento, Terrible Joe, discreto ma con poca fortuna. Ancora Talish a S, accompagnata da buone voci di scuderia, e il numero 7 dello schieramento, che se ripete una delle buone prestazioni fatte vedere a Siracusa, potrebbe agguantare una piazza. Andiamo invece attraverso il segretario corse, Francesco Sirchi, al pronostico del Premio Belgio, una condizionata abbinata alla Corsa Ipica Nazionale per indigeni di 5 anni. La terza corsa sarà una delle corse più belle del convegno, in quanto è una corsa molto aperta e qualitativa, è una condizionata che ha raccolto ben 10 soggetti. Su tutti guarderei a Sorniside, che all'ultima uscita sulla pista ha effettuato un vero e proprio numero, piazzandosi ancora terzo dopo lungo errore in partenza. Nonostante la seconda fila, secondo me è il cavallo da battere. C'è una prima fila molto agguerrita, soprattutto in soggetti come Santiago Waisaes, seppur la sua condizione in questo periodo è sembrata un po' in ribasso. Oppure Sherman Cabba, che sulla pista qui ha fatto bene, con una vittoria e un piazzamento. O ancora Sachs del Ronco, che non è riuscito a dare il meglio, ma che è un cavallo molto tosto se la piglia dritta. In seconda fila poi menzionerei anche il numero 9 di Riviera, volante sul tracciato, senza trascurare il Rania dei Fiori, nonostante il 7 a largo dello schieramento, ma soggetto dotato di ottimo parziale iniziale, quindi pericolosa dovesse andare in testo o in posizione. Quarta corsa particolarmente numerosa dietro le allei dell'autostarter. Sono in 11 i soggetti che frequenteranno il premio Francia, una quarta corsa che è una reclamare, abbinata ancora alla corsa ipica nazionale per anziani. Ottavio DL, numero 4 dello schieramento, in ordine dovrebbe fare andatura, atteso anche Locomotion, che comunque scende di categoria. Il numero 10 dello schieramento non possiamo non citarlo, pettirò soggetto perché è sempre piazzato, adesso chissà se a caccia di vittoria. Con la corsa numero 5, il premio Europa invece, una condizionata per indigeni di 3 anni sul miglio, ci soffermiamo con Francesco Sirchia. Bella anche la condizionata per i cavalli di 3 anni, che ha raccolto 7 soggetti. In base ai riferimenti sul tracciato, sembra essere Urania B la cavalla da battere. La fermina di Luciano Messineo è un soggetto molto veloce, molto sbrigativo, regolare, ha mostrato di sapere adattare bene al particolare tracciato siracusano e merita la palma di favorita. Alternative? Alternative io direi innanzitutto Urania Man, anche lei vincitrice sulla pista e quindi con una sicura adattabilità al tracciato. L'incognita è questa novità che arriva dal team Lo Verde, Urania Caf proveniente da Roma, di recente ha fatto poco, però se è stata portata qui a Siracusa proprio per l'ultimo convegno, credo che c'è da stare attenti perché questi spostamenti di Lo Verde non nascono mai casualmente. Tra gli altri io spenderei una parola per Ula Hop, che ha un buon numero, è rientrata qui in Sicilia dopo la trasfetta di Cesena, non benissimo perché dopo facile percorso di testa doveva vincere invece è stata abbattuta. Il resto del campo è equilibrato, però gli altri tre, Ulo De Fiori, Unica Caffè e Ucciugurino, mi sembrano leggermente un gradino inferiori. E a chiudere il convegno di trotto e anche la stagione del trotto all'ipodromo del Mediterraneo, il premio Germania, anche questa abbinata all'ipica nazionale e una condizionata per indigeni di tre anni. La stagione si chiude col premio Germania, una condizionata per cavalli ancora di tre anni, di qualità leggermente inferiore rispetto a quella che abbiamo esaminato poco fa. Sulla carta sembra un match con due cavalli che sul tracciato si sono comportati davvero bene. Uno è Oventino che ha mostrato dei progressi eccezionali sulla pista, vincendo e piazzandosi a ripetizione. E l'altro è un Gorese Jet, cavallo molto dotato, molto forte, ma incrina all'errore. Dovesse fare percorso liscio, potrebbe anche centrare la vittoria. Ma Oventino è un cavallo tosto che qui ha dimostrato di trovarsi bene sull'ampio tracciato siracusano. Più difficile la scelta del terzo cavallo. Ci stanno in tanti, tra questi la novità Ursucaf, anche lui proveniente da Roma, appartenente al timbolo verde. Ancora il 6 di Ussaro Kub, in sottordine qui a Siracusa, ma cavallo di mezzi. Ucria Spin, una cavalla che nell'ultimo periodo a Palermo ha mostrato tanti progressi, piazzandosi a ripetizione e vincendo anche la sua prima corsa. E con questo è tutto da Siracusa. Il trotto vi attende, quindi sabato, sulle piste dell'ipodromo del Mediterraneo. Arrivederci. Grazie. Grazie.